Ecco l'entrata in campo, ultima gara di campionato, tredicesima giornata di ritorno del campionato provinciale categoria giovanissimi, Girone Chieti, Virtus Castelfrendano da questo lato con la maglia classica giallorossa e da quell'altro lato la Virtus Ortona 2008 giallonera, cioè un saluto al pubblico, ecco Simone, Arnè, Enrico, tutti, andatevi a fare il cambio ecco pure qua, il saluto, la Virtus Ortona Calcio Pubblico delle grandi olazioni, mister Gabriele, la panchina è un po' corta oggi